Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta nutellotta, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, mascarpone, olio di semi di girasole, latte, farina di tipo 00, zucchero, fecola di patate, cacao amaro, aroma di brioche o aroma di rum, lievito per dolci vanigliato, vanillina, sale e nutella. Diamo il via alla ricetta. Un'ora prima di iniziare la ricetta abbiamo messo in congelatore 9 cucchiai di nutella. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la vanillina, un pizzico di sale, le uova ed azionare il bimbi senza misurino per 6 minuti a velocità 4. Aggiungere il mascarpone, il latte, l'olio, e l'aroma di brioche e l'aroma di rum. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3. Aggiungere la farina, la fecola di patate, il cacao amaro e il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale ed azionare il bimbi per 1 minuto a velocità 5. Versare il composto in uno stampo da 24 x 24 cm. mettere la nutella cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti, fare la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, decorare a piacere e servire. Torta nutella hotta, grazie e alla prossima ricetta. montata con il bimbi per 100% piacere pin8 piacere piaccere piacere piacere Grazie a tutti.